hotel il poeta hotel a quattro stelle la struttura è caratterizzata dalla presenza di comfort e della buona cucina toscana le camere accoglienti e tranquille si dividono in superior e standard veri angoli di relax a disposizione due sale meeting un ampio salone attrezzato su richiesta una sala delle feste e garage coperto per i clienti all'interno dell'hotel c'è il ristorante l'osteria del poeta ideale anche per cerimonie e cene aziendali infine il verde melograno un angolo bar per prima colazione e spuntini pomeridiani la sera happy hour a tema